Benvenuti nel canale Meli Made in Sud come avrete letto dal titolo oggi andiamo insieme da Eurospin in realtà sarà uno svuota la spesa con alcuni inserimenti del supermercato o meglio alcune riprese che ho effettuato all'interno del supermercato infatti ci sono alcuni prodotti o alcuni articoli che non ho acquistato ma ho ben pensato di scattare qualche fotografia e girare qualche piccola clip in modo da farvi vedere quello che sono riuscita a trovare prima di iniziare vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nick melimade.insud e adesso non mi perdo più in chiacchiere e inizio col mostrarvi alcuni prodotti che trovate da Eurospin allora innanzitutto trovate tantissimi prodotti ad un euro se ci sono dei prodotti interessanti che non ho ripreso o non ho acquistato magari vi metto le fotografie così ve li segnalo mentre appunto sto parlando qui vedrete le fotografie o meglio in questo momento vedete le fotografie ci sono anche tanti prodotti della linea Giro tra i Sapori d'Italia è una linea meravigliosa che propone ciclicamente Eurospin anche se dovrei tirare un pochino le orecchie perché? perché ci sono tanti prodotti che dovrebbero essere completamente non solo per quanto riguarda l'azienda ma soprattutto per quanto riguarda proprio l'ingrediente a volte proprio l'ingrediente principale dovrebbero essere prodotti nella regione specifica esempio zucchine alla scapece le zucchine devono essere partenopee ok? invece le zucchine magari non sono partenopee per dire sto facendo un esempio perché adesso non ricordo tutti i dettagli stessa cosa magari per altre tipologie di prodotto quindi se tu mi dici è una linea Giro tra i Sapori d'Italia appunto per far scoprire i sapori d'Italia non solo io pretendo che l'azienda sia italiana ma pretendo soprattutto che la materia prima sia italiana ok? perché si chiama Giro tra i Sapori d'Italia se fosse Giro tra i Sapori europei allora lì non potrei dire nulla fatemi sapere se il ragionamento fila per voi oppure sto dicendo delle inesattezze magari ecco ci confrontiamo perché giustamente ogni persona ha il suo punto di vista io personalmente la vedo così e poi ci sono altri prodotti tra cui anche la carta igienica umidificata anche questa torna ciclicamente da Eurospin io sto anche parlando troppo mi sto dilungando per farvi vedere i vari prodotti che sono riuscita a trovare così non faccio accavallare troppo né foto né video adesso vi faccio vedere quello che ho preso come avete visto anche nell'anteprima ho acquistato due detersivi della stessa linea e un detergente intimo questa arriva per la prima volta ad Eurospin allora parto subito con lo svuota la spesa ho acquistato 100% italiano quanto basta origano secco origine Sicilia sono 40 grammi questo qui non ci fate caso alle mani ma ho le mani letteralmente disastrate perché in questi giorni mi sono data la pazza gioia con le pulizie comunque io prendo sempre questa confezione anche se c'è la versione fresca però io preferisco di gran lunga questo perché durante le settimane durante la sua permanenza a casa mellimare in sud questo mi dà la sensazione che a livello qualitativo è migliore non lo so c'è la miglia oppure veramente poi sono tornate anche queste arrivano ciclicamente da Eurospin se le trovate a Cattatel perché sono buonissime ora tante persone diranno che stai dicendo che stai dicendo ma ognuno tiene i gusti sui che ho pulito a me la piadina croccante o semi croccante non piace a me piacciono i guap 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 questi guappanti qua insomma le simil piadine estremamente morbide quelle piadine fate come dire chiedo a Menda se dico piedina 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 ho detto piedina piedina che stiamo dicendo mamma mia parliamo scorto comunque stiamo dicendo a me piacciono queste che si avvolgono morbide morbide che hanno un spapp che hanno un sondosto insomma mi piacciono queste qui sono molto molto buone anche quelle che trovate da Lidl quando esce la settimana messicana le fanno di tantissime tipologie all'aglio cereali multicereali spinaci avocado cipolla insomma ci sono tantissime versioni da Lidl e da Lidl da Eurospin adesso trovate queste della linea pronti tre mulini e via ideale da arrotolare infatti come potete notare sono morbide morbide e non si schessano allora la dichiarazione nutrizionale per chi fosse interessato eccola qui e gli ingredienti per chi fosse sempre interessato una cosa l'ha già ricido scusate non tutti mi ho preso due confezioni ma c'è di persona in generale le persone non si accontentano mai c'è sempre qualcosa che non va allora inquadra basso e inquadra basso inquadra là e sic inquadra là e chat inquadra interno e non c'è la cucina inquadra la cucina si però la cucina e poi ci sta muovendo inquadra mattonelle no mattonella così parli italiani parli italiani ma non parli più napoletano parli napoletano ma perché parli napoletano insomma veramente una cosa proprio insopportabile accatta robbi mark ma perché compri le cose di mark non c'è sordo accatta dell'euro spin si ma l'euro spin non ci sta la roba buona che poi voleste sapere lasciamo perdere no io preferisco l'euro spin no io preferisco il lidl no l'ipercoppo è caro mamma mia ma proprio tenete sempre che dicersi proprio ammusciamento puntini 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 ma con questo che era ricerla una cosa e me l'ha discutato e poi mi scordo comunque ho giocato questi rappanti qua comprateli perché sono buoni ma scusate quello che stavo dicendo plum cake con yogurt magro italiano della linea dolciando questi qua parli più assai ma il video è troppo lungo parli più poco ma perché hai fatto il video breve non ho già capito ma mettete d'accordo ma io che faccio tagli a faccio di agendo manico aspetta non mi ricordo che volevo dicero in base a un comment che ho ricevuto ma ho riscutato con me questo comment ma comunque mentre parlo può essere come una mente poi ho preso il formaggio praticamente è una simil scamorza affumicata questa mi piace molto la trovo da euro spino trovate sia nel reparto della salumeria dei freschi sia sono sempre dei prodotti freschi quindi la materia prima è fresca viene impacchettata monoporzionata e rivenduta poi ho preso una confezione di patate rosse io amo sia le patate novelle quelle proprio piccoline sia le patate rosse secondo me le patate rosse sono le più patanate poi questi allora avevo voglia di cioccolata mi dici ma perché potevi prendere sì però ma perché riduzzi così no dolciando praline assortite ho preso questa confezione di cioccolatini questo è per il weekend ogni tanto uno si consola con un cioccolatino sul cioccolato io sono abbastanza capricciosa mi piace il cioccolato di marca ma non perché mi interessa la marca semplicemente perché quasi sempre come anche i cioccolatini con quelli per esempio che sticcano un sbondo proprio paragonare a Eilind cioè proprio lo vado proprio mano così poi ho preso al reparto salumeria le olive nere giganti queste qua scettate le apro perché poi c'è chi dice sì però tu non le hai comprate facci vedere le olive eccole qua poi novità in realtà sono usciti ciclicamente ma adesso sono stati inseriti all'interno della linea permanente euro spin si amplia quindi la linea integrali e ho preso i dolciando i frollini integrali 650 grammi questi li ho provati in passato appena sono usciti peraltro ve li ho fatti vedere quando sono usciti i video andiamo insieme da euro spin sono buoni 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 sia con il latte sia nel caffè rigorosamente amaro sia pucciati in tè tisane infusi e via discorrendo molto molto buoni quindi se vi capita vi faccio leggere la lista ingredienti ok anche qui ma perché vi fai vedere la lista ingredienti faccio vedere la lista ingredienti ma perché non la faccio vedere perché non vai vedere come si chiamano la lista ingredienti ma mettetevi d'accordo perché voi veramente facci di umani come la gente guardate si intunes proprio che la passione fa i video ma non ha scritto cosa a chi lo paese ah ecco il nome è venuto a mente una persona chiedo scusa perché non mi ricordo il nome quindi chiedo scusa ma ha scritto io non posso vedere più il video perché ci sono troppe pubblicità peraltro un aggettivo che aggrava ancora di più il senso di troppo di troppa pubblicità ma da questo momento non mi ricordo manco l'aggettivo cioè scusatemi allora io sono una del no questo l'ha già riuscito non mi fate sfocare lasciatemi sfocare io sono una delle poche youtube antica collaborazione non fa proprio ma no perché hai sbagliato a fare collaborazione assolutamente alzo le mani perché poco qualcuno pure fra in dente dice ah tu stai parlando male di chi fa le collaborazioni no no e no sto dicendo che sto dicendo una cosa oggettiva diciamo che molte persone non amano le pubblicità non amano sentire parlare di collaborazioni sponsorizzazioni e via discorrendo io io Melania non faccio mai collaborazioni non faccio mai collaborazioni ma stiamo parlando c'è purcell dell'anno scorso collaborazioni sul mio canale non verite proprio sponsorizzazione non verite proprio e l'email mi arriva in continuazione aspirapolvere robot che camminano gioielli forse potrei accettare qualche collaborazione su gioielli ma bisogna vedere insomma io sono letteralmente bombardata qualcuno dice no ma io non ci credo faccio screenshot all'email e ti faccio a breve ok quindi già io collaborazioni sponsorizzazioni non lo faccio proprio quindi voi non vi subite nulla tra virgolette vi subite nulla in riferimento alla persona che mi hai fatto la pubblicità ma ve l'ha mandato pure le pubblicità che metto youtube non ha già capito ma come ve l'ha mandato a fare cioè ora io faccio video per passione però mi fa piacere avere anche una gratificazione perché io sono partner di youtube quindi guadagno una percentuale molto bassa ve lo posso assicurare attraverso la monetizzazione la monetizzazione attraverso la pubblicità ma che caspite manca a dire aspetto che la vogliono solo pretendono però non danno proprio niente ma io non lo so scusate ma questa cosa è riuscita perché guardate tutto mi potete riuscita tranne che io faccio una capa tanto con sponsorizzazione pubblicità e via discorrendo a me mi sono arrivati i miei la cuscina la cuscina della cervice a cosa la sete che la sete poi volevi riuscita insomma tutto quello che avevo riuscita dagli altri mi sono arrivati e certi mi hanno proprio bombardato ma io non faccio niente perché giustamente persone a parte certe cose non giocherete proprio quindi come vi faccio a bere ma giustamente pensi a gente già bombardata almeno con i gioielli siccome i gioielli sono qualcosa di nuovo si aggiornano ci sono sempre le collezioni nuove c'è una cosa bellella ma i cannelli sono stu in bestesse i cosi di cuscina sono stu in bestesse i feti sono stu in bestesse insomma tutto questo io dico no io non le voglio fare queste cose ma no perché sia sbagliato perché personalmente preferisco portare sia già qualche sponsorizzazione una collaborazione qualcosa di di diverso qualcosa diciamo è più bellissimo qualcosa anche in cui io personalmente credo e voi ve lo ha mandato per rubare pubblicità dei video io non ho capito non lo so vabbè lasciamo vedere sapete quando mi hanno schiattato a capo per mandare l'aspirapolvere e un robot che cammino da casa ragazzi io non l'ho accettata io non l'ho accettata ma più di una volta mi è arrivata sempre 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 la stessa email io non l'ho accettata io dico perché non l'ho accettata e vi dico che si è scassato pure l'aspirapolvere quindi potessi dicere pure ok se è scassato l'aspirapolvere non mi faccio mandare no perché non l'ho presa perché dal mio punto di vista a parte che ho visto tantissime recensioni e tantissimi video ma dal mio punto di vista non è una cosa che funziona bene per pulire la casa se è una cosa in più allora ci potrebbe anche stare ma se per esempio personalmente sta a spendere 200-300 euro non lo so è normale che io non ve lo propongo e voi invece di apprezzare una persona che è leale onesta fino al midollo non sto dicendo che ha la donna su leale onesta fino al midollo nel senso con i miei valori con i miei principi e con il mio standard di pulizia riferimento a questo voi tenete che dice con la pubblicità che potete in dei video cioè io non lo so chiusa parentesi dolciando ciocco snack con crema al latte scusate però io ogni tanto perché vedo che ogni tanto anche alcuni colleghi che fanno dei video che si fanno buono e ogni tanto le sa favori quindi e poi scoppi in dei video ciocco snack con crema al latte questi sono molto buoni in realtà sono piaciuti particolarmente a Giulio a me non fanno tanto impazzire perché non mi piace secondo me la crema al latte all'interno è troppo dolce però ecco per un bambino oppure se li volete pucciare il caffè rigorosamente amaro potrebbero anche andare secondo me c'è di meglio scusate quando è troppo è troppo avanti poi ho preso una confezione di gran tramezzino senza olio di palma senza crosta tra i mulini questo qui poi ci sono certi che mettono i titoli sensazionali titoli a cappa visualizzazione cosa la potesse favorire ma io non faccio cioè qui veramente come si dice chi tiene il pano non tiene niente chi tiene niente non tiene il pano io non lo so la gente è proprio di ingrato non tutti non tutti non tutti ringraziando al nostro signore poi ho preso i ciocobiscuiti cioccolato al latte questi qua invece sono molto buoni Giulio ha detto mamma me li compri mamma me li compri per piacere cattami che si cattano pascoli italiani grana padano dopo peraltro ha fatto venire lì alla di compagno suoi perché gli dice mamma hanno visto che io mi porto questi biscotti a scuola si stanno accattando pure loro oggi ti io faccio girare l'economia pascoli italiani grana padano top grattugiato scusate qualcuno dice ma questo è pesante però io poi tengo 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 e poi scoppio poi silvano ha preso fresche fette la bottega del gusto a confezione da 100 grammi carne italiana poi sempre al reparto salumeria dei freschi ha preso il prosciutto crudo mamma me ma dura ma dura sto attenta perché anche se ho lavato le mani però questo qua non si cosa che ha su sporco poi ho ripreso a moestere senza glutine le cialde di riso confezione da 200 grammi all'interno trovate 10 monoporzioni da 20 grammi cada uno sono buonissime peraltro ve ne ho parlato e ve le ho fatte vedere anche in una diretta che ho fatto su instagram credo ieri sì me l'ho fatta ieri con una mia carissima amica Rosario Rosario vi mando un bacio se dovessi passare di qui è un prodotto vegano come potete vedere c'è la certificazione senza glutine ok quindi andate sul sicuro poi ah peraltro avevo detto giro una storia e vi faccio vedere la confezione e poi mangio scusate faccio sempre questi faccio sempre guai poi della bottega del gusto ho preso la rossa di tacchino affettato anche qui c'è il bollino senza glutine questi li trovate ad un euro e devo dire che a me piacciono moltissimo sia quando vado in velocità oppure quando non riesco a preparare un secondo oppure quando vado di fretta insomma mi piace tantissimo sia per il pranzo sia per la cena ma anche per spuntino e merenda poi ho ripreso anche questi ve li ho fatti vedere nell'altro svuota la spesa i pomodorini datterini ne ho preso un po' di confezioni perché inavvertitamente avrò degli ospiti e quindi mi servono quello che avevo non non bastava ne ho preso quattro confezioni cioè non bastava questi persone che andavano però per noi basta bastavano ed avanzavano poi questa è la prima volta che li ho comprati della dolcianda anche questi in offerta vi ciocco a più praticamente sono due biscotti con il cioccolato all'interno ci sta uscuro anche mi viene andato tutto a grigio non so come sono queste cose poi ho preso il mio amatissimo aglio del marchio delizie dal sole questo ho già tritato fate attenzione non vi confondete perché da Eurospin trovate anche l'aio intero sempre surgelato io amo quello tritato perché se ha già più spick in there utilizzo quello frisco invece quando si deve tritare si perché non lo puoi tritare no poi ho preso quest'altro formaggio Emmental questo qui comunque totale ho speso una settantina di euro perché ho preso anche altre cose che non non erano per me ultime cose in tema food che ho preso delizie dal sole 100% prodotto italiano il couscous mi piace moltissimo è una confezione da 300 grammi e poi ho preso 100% prodotto italiano il miglio decorticato sempre una confezione da 300 grammi questi sono buonissimi io li alterno perché vario tantissimo con l'alimentazione e quindi non ve li ho mai fatti vedere forse in passato non mi ricordo questi sono molto molto buoni buttate un occhio anche su questa tipologia di prodotto da Eurospin passiamo adesso ai detersivi che trovate da Eurospin peraltro se acquistate 2-3 prodotti no forse 3 prodotti di questa linea potete vincere un sorteggio di Dexal sono usciti questi prodotti vi metto di fianco le altre varianti che se non ero ci sono altre due varianti o un'altra non mi ricordo allora essenza e detergente universale di Dexal orchidea e neroli per ambienti e superfici e poi ho preso sandalo e ambra sempre per ambienti e superfici la confezione da 750 ml ed è prodotta dalla nostra amatissima Eutalia azienda Eutalia allora vi dico vi leggo la descrizione profuma a lungo gli ambienti gli armadi i cassetti e gli abitacoli delle automobili la sua innovativa formulazione ad altissima resa permette anche di detergere profumando tutte le superfici dure ad esclusione dei vetri le fragranze originali di lunga persistenza donano una piacevole presentazione creando la giusta atmosfera per il benessere negli ambienti vissuti quotidianamente allora per profumare spruzzare almeno da 50 centimetri in base all'intensità del profumo che si vuole negli angoli della casa sottende tessuti tappeti o cassetti della biancheria ideale anche per la tappezzeria dell'automobile per detergere spruzzare direttamente sulle superfici e passare con un panno umido per spolverare spruzzare una o due volte su un panno trovate anche la composizione chimica ovviamente non vedo l'ora di provarlo mi è piaciuta tantissimo la tipologia di confezione in quanto essendo spray permette di essere molto più precisi e di non sprecare tanto prodotto mamma mia che profumazione spettacolare mamma mia una profumazione spettacolare sandalo e d'ambra proviamo l'altra versione la di Tascalia è la stessa perché l'ho letta da Eurospin proviamo orchidea e neroli allora questa è anche buona mi piace perché è troppo dolce per i miei gusti sicuramente tutti coloro che amano la vaniglia c'era anche sì la versione alla vaniglia ma proprio quando senta la vaniglia mi senta male e poi c'era un'altra versione mi ricordo comunque vi metto qui le foto ho detto prendiamo orchidea e neroli devo dire che è molto fiorita estremamente gradevole ricordano entrambi dei profumi di alta profumeria però questo qui è molto dolce è abbastanza dolce quindi si ama delle profumazioni dolci potete prendere sia la versione alla vaniglia che questa sì si sente la profumazione di fiori ma è anche molto dolce quasi sembra che all'interno ci sia anche la vaniglia tanto è dolce questo mi ha fatto letteralmente innamorare cosa che io sapevo perché io non apro mai oh mamma mia non apro mai le confezioni di questi prodotti nel supermercato perché è una cosa che non fa cattiva educazione per quanto mi riguarda anche perché tutto quanto vanno a rapì il prodotto poi le fragranze fuoriescono e poi una persona che arriva successivamente si andava via una raputa poi la prende in considerazione in continuazione possono cadere ciglia peletti residui di pelle insomma può cadere la poca trasi a roba cadente non ce fa oh samadine mi stungono poco così raffè capisci di quale film sto parlando e poi ho preso una novità fior di magnola detergente intimo protettivo ph 5.5 con camomilla dermatologicamente ginecologicamente testato senza parabeni il prodotto è questo qui è da 250 ml scusate è prodotto da union cosmetics srl a senigallia ho capito ho capito indicato per la corretta igiene intima quotidiana per prevenire piccoli disturbi del quale prudito e arrossamento la sua formula a base di ingredienti naturali come la camomilla svolge un'azione emoliente e protettiva nel completo rispetto del ph della pelle rilasciando un'immediata sensazione di sollievo garantisce inoltre un'azione igienizzante dermatologicamente testato presso l'università di ferrara allora io vi faccio leggere la lista ingredienti eccola qua mi avvicino ok e vado a sentire la profumazione mamma mia è bloccato proprio aspettate un minuto faccio prima allora ha lo stesso profumo di un detergente intimo del come si chiama del saugella ha la stessa profumazione del intimo saugella la versione classica o la versione rosa o la versione celeste non mi ricordo azzurra comunque mi ricorda tantissimo il saugella perché ho acquisto anche quello secondo me sarà un ottimo ottimo prodotto bene queste sono state le cose che ho acquistato da Eurospin spero di avervi tenuto compagnia scusate per il peppone che vi ho fatto durante il video però ogni tanto io tengo tengo e poi scoppio magari devo liberarmi ciclicamente quindi ogni tanto devo fare dei video di sfogamento lasciatemi sfogare basta non parlo più vi ricordo che mi trovate anche su instagram con il link melimate punto in sud e noi ci vediamo al prossimo video come sempre un bacio un abbraccio un tarallino dalla vostra melimate in sud mua un abbraccio un abbraccio un abbraccio